Musica Al termine dell'udienza generale Papa Francesco ha chiesto di pregare per le comunità martoriate dalla guerra e per Valencia, in Spagna. La guerra serve solo a fare la guerra. A Terlizzi il secondo appuntamento con i Lunedì di Pace, l'iniziativa in tre tappe organizzata da Pax Christi. Ad Andria tornano le domeniche ecologiche, si svolgeranno dal 10 novembre all'11 gennaio 2025. In Puglia è stato approvato un accordo che incentiva i pediatri nelle aggregazioni funzionali territoriali per garantire ambulatori aperti dalle 8 alle 20. Un Natale tra tradizione e innovazione, la Regione Puglia ha annunciato un nuovo avviso destinato agli operatori privati del turismo. Musica Ben trovati alla seconda edizione del nostro telegiornale di Teledeon. Papa Francesco al termine dell'udienza generale di questa mattina ha chiesto di pregare per le comunità martoriate dalla guerra e per Valencia, in Spagna. Da cui l'invito ai fedeli di invocare la Vergine Maria sotto lo sguardo misericordioso della patrona di Valencia. Sentiamo insieme un breve stralcio. E preghiamo per la pace. Non dimentichiamo la martoriata ucraina, che soffre tanto. Non dimentichiamo Gaza e Israele. L'altro giorno sono stati emetragliati 153 civili che andavano per la strada. Molto triste. Non dimentichiamo il Myanmar. E non dimentichiamo Valencia, nella Spagna. Per questo, come ho detto, c'è oggi presiede la Virgen de los Desamparados, la Madonna de los Desamparados, che è la patrona di Valencia. Mi invito a pregare per Valencia un'Ave Maria a lei. E preghiamo al Signore di vivere sempre con la sua eranza. E a Terlizzi si è svolto il secondo appuntamento con i Lunedì di Pace, l'iniziativa in tre tappe organizzata da Pax Christi. Damiana Dorotea Sgaramella ha seguito per noi l'incontro. Vediamo. La guerra serve solo a fare la guerra. Si intitola così l'iniziativa di Pax Christi Terlizzi, che in tre tappe ospita esperti e protagonisti nazionali del movimento pacifista per confrontarsi sul tema della pace. Il secondo appuntamento si è svolto nel piccolo osservatorio universale Garzia, durante il quale si è parlato di economia di pace e di finanza etica. Che cosa significa fare in finanza etica? Significa scegliere da che parte stare, scegliere di utilizzare i propri soldi in maniera coerente con quelli che sono i propri principi valoriali. Quindi significa prevalentemente finanziare quello che produce un impatto positivo per l'ambiente e per la società. E quindi finanziare il welfare, finanziare l'ambiente, finanziare lo sport, le attività di comunità, finanziare tutto quello che serve alle famiglie. E soprattutto significa anche evitare la speculazione, e quindi fondamentalmente quel meccanismo per il quale i soldi producono alti soldi, e finanziare l'economia reale, quindi finanziare le famiglie, finanziare le imprese che hanno a cuore evidentemente quello che fanno al di là del loro aspetto economico. Tra i relatori Giulio Marcon, portavoce della campagna Sbilanciamoci, già parlamentare, che ha suggerito di utilizzare la spesa pubblica per la società, l'ambiente e la pace. Servono politiche, politiche coerenti, servono investimenti, servono atteggiamenti da parte delle istituzioni che vadano in questa direzione. Quindi bisogna ridurre le spese militari, aumentare le spese per la sanità, per l'ambiente e per l'istruzione, bisogna riconvertire l'industria militare, bisogna tassare i sovraprofitti delle industrie militari. In questi ultimi due anni i grandi gruppi che si occupano di armi hanno avuto dei guadagni in borsa stratosferici, quindi non si può fare profitto sulla guerra e gli ex-profitti vanno tassati, vanno tassati in modo adeguato. Ad avviare l'incontro i saluti di Monsignor Giovanni Richiuti, presidente di Pax Cristi Italia. Bisogna disarmare questa economia, è uno degli slogan di Pax Cristi, No, dobbiamo disarmare il linguaggio, dobbiamo disarmare la Chiesa, dobbiamo disarmare le relazioni, dobbiamo disarmare soprattutto la finanza, l'economia. La pace resterà sempre una, non un'utopia, perché l'utopia è tutt'altro. La pace resterà sempre così come una specie di ideale, fino a quando non comprendiamo che la pace si raggiunge con scelte coraggiose. La terza e ultima tappa dell'itinerario di riflessioni si svolgerà lunedì 11 novembre, sempre al cinema Piccolo Osservatore Universale Aldo Garzia di Terlizzi. Il messaggio di padre Giuseppe Maria Leone richiama alle fondamenta del cristianesimo. Ne è convinto padre Vincenzo Lamedola, che a Trinitapoli ha partecipato alla presentazione degli scritti mariani di padre Leone. Ascoltiamo insieme l'intervista a cura di Francesco Rossi. Gli scritti di Giuseppe Maria Leone hanno lasciato la memoria di quello che egli è stato e di quello che ha trasmesso col suo ministero sacerdotale e missionario. Con i suoi scritti è alla radice di tanti cambiamenti ecclesiali nella vita consacrata, nella predicazione, nella direzione delle coscienze. E quello che lui ha fatto si vede nei destinatari della sua missione, dei suoi scritti. È come la sorgente di acqua sotterranea, padre Leone. C'è ma non si vede, ma si vedono gli effetti del suo ministero. Il messaggio che possiamo cogliere oggi è un rinnovamento spirituale profondo. Padre Leone richiama i cristiani di ieri e di oggi alle fondamenta del cristianesimo. E cambiamo argomento. Ad Andrea, nella sesta provincia pugliese, a partire dal 10 novembre, tornano le domeniche ecologiche fino all'11 gennaio 2025. La città vivrà una serie di iniziative legate alla chiusura del centro alla circolazione veicolare. Ascoltiamo le interviste a cura di Francesco Rossi. Noi dobbiamo spaventarci sempre di più ad utilizzare l'autovettura. Spaventarci perché davvero l'ansia, la tensione, lo stress, il nervoso di stare tanto tempo in macchina per percorrere pochi metri ci rovina anche il tempo libero che abbiamo disponibile, come per esempio quello della domenica. Vivere e attraversare la città a piedi, in bicicletta, davvero godendo e gustando i profumi, gli odori, le forme intorno a noi, le iniziative che completeranno anche il percorso delle domeniche ecologiche, vuole essere davvero un invito a tutti a vivere questo tempo preparandoci al fatto che via via, via via dobbiamo disabituarci all'uso non necessario delle autovetture. La superficie riguarderà sia il centro storico che soprattutto l'area ancora più estesa di via Napoli, via Le Venezia Giulia, via Vittoria e poi Corso Cavor. Quindi è un'estensione del centro storico, quello che più o meno succede il sabato sera e la domenica mattina, per cui si attiveranno una serie di servizi alternativi per far godere al cittadino di questa possibilità di usufruire di questi spazi all'aperto. Avremo intanto per esempio attività di orientering più in là nelle domeniche, quindi intorno anche alla città con la valorizzazione anche di alcuni passaggi storici e culturali della nostra città. Oppure per esempio avremo ping pong, tennis all'interno della nostra piazza centrale. Oppure per esempio avremo attività culturali tra passeggiata e percorsi culturali. Oppure per esempio avremo attività che ci aiutano, aiutano proprio a stare bene nella città. Quindi fatti di incontro, di lettura, di sport. Questo perché noi dobbiamo poter dire non solo la domenica, nelle tre ore che al momento sono indicate, ma tutti i giorni della settimana provare ad incontrarci per strada. E voltiamo pagina, approvato dalla Giunta regionale pugliese, un accordo integrativo che incentiva i pediatri nelle aggregazioni funzionali territoriali per garantire ambulatori aperti dalle 8 alle 20, nonché adeguate coperture anti-influenzali dei bambini. I dettagli nel prossimo servizio. Garantire l'apertura quotidiana degli ambulatori pediatrici dalle 8 alle 20, rafforzare la presenza e il numero dei collaboratori di studio e degli infermieri e assicurare la maggior copertura della vaccinazione anti-influenzale per i bambini in Puglia. Sono questi i tre punti dell'accordo integrativo tra i pediatri di libera scelta e la Regione, approvato dall'Aggiunta, su proposta del Vicepresidente e Assessore alla Sanità Raffaele Piemontese. L'accordo potenzia le funzioni dei pediatri di libera scelta da gennaio 2024 operanti nelle aggregazioni funzionali territoriali, con l'ampliamento della condivisione dei percorsi terapeutici, dei protocolli diagnostici, ma soprattutto con un sistema che assicura ai bambini e alle famiglie continuità assistenziale, anche attraverso il servizio di consulenza ambulatoriale e pediatrica nei festivi e prefestivi. E la Federazione Italiana Medici Pediatri ha firmato a fianco di Coldiretti la proposta di legge europea per ribadire l'obbligo dell'indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti in commercio per bambini. Ascoltiamo il servizio. I pediatri si uniscono agli agricoltori per sostenere la proposta di legge europea attesa a estendere a tutti i prodotti alimentari commercializzati all'interno dell'Unione Europea l'obbligo di riportare in etichetta l'origine geografica. A lanciare l'iniziativa legislativa è stata la Coldiretti. Adesso c'è la firma anche della Federazione Italiana Medici Pediatri, che intende mettersi subito al lavoro per raccogliere ulteriori firme negli ambulatori dei medici pediatri di famiglia. Nei primi mille giorni di vita il bambino non può essere considerato come un piccolo adulto. In quella fascia d'età il piccolo, spiega il professore ordinario di pediatria Ruggero Francavilla, è incapace di metabolizzare le quantità di contaminanti presenti nel cibo destinato agli adulti. Questo per via del suo peso corporeo e per le funzionalità di alcuni organi. Di cui l'importanza di scegliere i prodotti etichettati come baby food, perché rispondenti a standard di sicurezza e di qualità, ai quali non rispondono ad esempio i cibi biologici pensati e testati per gli adulti. Da questo punto di vista, conclude il professor Francavilla, il nostro paese è dotato di una normativa fra le più rigorose a livello mondiale, consentendoci di affermare che gli alimenti per l'infanzia provenienti dalla filiera agroalimentare italiana garantiscono i più alti livelli di sicurezza. E parliamo di sanità. L'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari è stato presente al Palazzo del Quirinale per la cerimonia di celebrazione dei giorni della ricerca, l'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro. Vediamo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto una rappresentanza del mondo scientifico e di sostenitori della Fondazione AIRC, Associazione Italiana per la ricerca sul cancro. Tra gli scienziati invitati, anche il dottor Giacomo Volpe, ricercatore del Laboratorio di Diagnostica e Caratterizzazione Cellulare afferente alla struttura complessa di ematologia dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. Siamo molto contenti, soddisfatti e inorgogliti per questo riconoscimento da parte del Presidente Mattarella in favore del nostro ricercatore, carissimo Giacomo Volpe, che è un cervello rientrato anche per volere di Mattiglio Guarini, a cui dobbiamo il nostro ringraziamento per questa sua politica di rientro dei cervelli dall'estero. Però noi continuiamo a cercare persone che si formano in Italia e si perfezionano all'estero per far sì che poi portino il loro sapere scientifico, la loro voglia di fare, all'interno del nostro istituto, che è stato riconosciuto per la prima volta dall'AIRC, che è stato riconosciuto per la prima volta dalla Presidenza della Repubblica, ma che continua ad affermarsi in una logica di espansione conoscitiva, divulgativa e scientifica a livello nazionale e internazionale. Nel corso della cerimonia l'Istituto Barese è stato citato anche nell'intervento di Alessio Menga, portavoce dei 6.000 ricercatori AIRC impegnati quotidianamente nell'affrontare il cancro. Nel suo discorso Menga ha ricordato orgogliosamente i due anni di esperienza all'Istituto Tumori quando era ancora ricercatore junior. E in Puglia si avvicina un Natale tra tradizioni e innovazione. La Regione ha annunciato un nuovo avviso destinato agli operatori privati del turismo. Sentiamolo insieme. Attraverso Puglia Promozione, l'assessorato al turismo della Regione Puglia ha annunciato il nuovo avviso per lo sviluppo dei prodotti turistici a tema natalizio. Con una previsione di risorse pari a 400.000 euro, l'iniziativa punta a rendere la Regione una destinazione attrattiva durante le festività invernali, prolungando la stagione turistica e valorizzando il patrimonio culturale e naturale del territorio. Possono partecipare all'avviso operatori economici come società, cooperative, associazioni, federazioni sportive e imprese dell'intermediazione turistica, tour operator, agenzie di viaggio. Non sono ammessi, invece, enti pubblici, proloco e vincitori delle precedenti finestre dell'avviso. La dotazione finanziaria massima per singola offerta è di 25.000 euro, tra gli ambiti di intervento, brandizzazione, spazi ed esperienze, servizi editoriali, grafici, tipografici, servizi di supporto alla visita come transfero, guide turistiche per attività a tema enogastronomia e artigianato, sport, natura e benessere, mare e nautica, arte e cultura e wedding, tutti declinati in chiave natalizia. Le attività dovranno svolgersi tra il 10 dicembre 2024 e il 12 gennaio 2025, mentre le proposte possono essere inviate sino al prossimo 18 novembre. La via Ionica, Land for All, nasce a Talento, il primo cammino interamente accessibile d'Italia. Si tratta di 215 chilometri tra mare e terra per il diritto alla felicità di tutti. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Un cammino di 215 chilometri che attraversa il mare e la terra, tra i verdi vigneti e uliveti, zone umide e macchia mediterranea. Il territorio è quello cerniera tra la Murgia e il Salento, passando da Ginosa, La Terza, Crispiano, Taranto, Pulsano, Lizzano e Manduria. È la via Ionica ed è concepita per essere il primo cammino accessibile del sud Italia. Naturalmente a sud è il soggetto capofila del progetto di turismo accessibile denominato appunto la via Ionica, Land for All, che ha recentemente ottenuto un finanziamento pubblico nell'ambito del bando Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile, promosso da Regione Puglia e Agenzia regionale del Turismo Puglia Promozione. Si tratta di uno dei sette progetti finanziati su scala regionale con uno stanziamento complessivo di 1,3 milioni di euro. Le idee attuate con l'avviso Costa consentiranno di realizzare e qualificare servizi di ospitalità, dall'acquisto di materiali e strumenti tecnologici per l'escursionismo alla creazione di pacchetti turistici ad hoc. Con il coinvolgimento diretto delle persone con disabilità in tirocini di inclusione lavorativa. Un piano per rendere la Puglia dunque sempre più accogliente, nonché una destinazione che metta al centro della propria offerta turistica la persona. E lo Sporting Club di Biceglie è cambiato negli ultimi anni e deve continuare ad aprirsi alle novità, lo ha detto Antonio Belsito, presidente dello Sporting Bicegliese, in occasione della festa del socio. Sentiamo. Il circolo, come poteva essere inteso 30 anni fa, è superato, non ha più senso. Oggi bisogna guardare questi luoghi di aggregazione come posti dove poter incontrarsi, non semplicemente perché non c'è altro, ma perché siano propositivi, perché sia il circolo che proponga delle iniziative nuove, che dia delle opportunità ai nostri giovani prima di tutto, ma a tutti coloro i quali vorressero utilizzare queste strutture, di poter far sì che non ci si occupi semplicemente di una attività, ma si facciano tutte quelle attività promozionali nuove, che sono attività di informatico, che oggi sono indispensabili, eccetera. Ebbene, un circolo che si rispetta deve senza indugio aprirsi a queste novità. Sono certo che chi mi succederà potrà proseguire e fare anche meglio e dare soddisfazione ai soci e soprattutto anche dare spazio alla città di Bisceglie di qualche potrà usufruire delle bellissime strutture di questo circolo. È presentato a Libri nel Borgo Antico. A Bisceglie è il libro di Antimo Cesaro dal titolo Breve Trattato sul Lecchino. Attraverso la storia e la letteratura, da Aristotele a Machiavelli, l'autore descrive il ritratto appunto di una creatura immortale, quella del Lecchino. Un libro al giorno incontra Antimo Cesaro, autore del libro breve Trattato sul Lecchino. Vediamo appunto la figura del Lecchino. Chiunque ne ha incontrato uno, almeno una volta nella propria vita. Perché parlare di questa figura? È una sorta di manuale di sopravvivenza. Come lei diceva, è una figura immortale e più diffusa di quanto si possa credere. E però è anche una figura pericolosa, perché leccando leccando si raggiungono dei risultati spesso immeritati. Ma la qualità del Lecchino e la pazienza si lecca oggi per incassare domani. E in ogni ambito della nostra vita abbiamo purtroppo avuto l'occasione di relazionarci con una persona che ha delle grandi ambizioni, nutre delle enormi aspettative, non mette in conto di fare sacrifici per raggiungere dei risultati, però ha l'abilità nella lingua. È questo muscolo volontario che utilizza strumentalmente per raggiungere dei risultati talvolta paradossali. Come nasce l'idea appunto di scrivere questo libro? Io insegno nell'università e come ogni ambiente è frequentato anche da questa tipologia umana. Però insegno filosofia politica, quindi mi occupo delle dinamiche del potere. E all'interno delle dinamiche del potere ci sono mezzi leciti e illeciti per raggiungere dei risultati. In questo caso il Lecchino è questo personaggio che scala la filiera del potere, del successo, e mi interessava dal punto di vista scientifico. Infatti è un libro godibile per l'argomento che tratta, talvolta con leggerezza, talvolta in profondità, ma è anche un libro che ha una valenza scientifica. Tanto è vero che il titolo che ho voluto dare è Breve Trattato sul Lecchino. È un trattato scientifico e anche un manuale di sopravvivenza, come le dicevo. Grazie ancora ad Antimo Cesaro, autore del libro Breve Trattato sul Lecchino, edito dalla Nave di Teseo e grazie ancora anche a Libri nel Borgo Antico, il festival letterario che ogni anno a Biceglie ospita autori e lettori nell'ultimo weekend di agosto. Appuntamento al prossimo libro. Ed è tutto per questa seconda edizione. Noi naturalmente vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata in compagnia dei nostri programmi televisivi. Noi naturalmente vi ringraziamo per averci seguito